Ah Fabri, te lo sei fatta il video oggi? No, perché? Perché c'è ancora il cacco dall'occhio! Ma che simpatico! Comunque oggi in frutteria ho visto Giulia! Aspetta, come hai visto Giulia? Eh sì! Come sarebbe di... Aspetta, dimmi tutto, mamma, ti ha fatto il nome mio? Sì, fracce, ti saluta! Come mi saluta? Ma davvero Fabri? Eh sì! Dagli, cazzo! Lo sapevo che ancora mi voleva bene, mamma mia, quanto so forte, so proprio un fenomeno! E dagli così! Tipo, dimmi tutto, ma stava da sola, stava? Eh no, fracce! Ecco, lo sapevo, c'è sta veiculata! Eh lo so! O chi stava, con mi chirugola? No, stava col quartiero! Oddio, ancora sto quartiero! Dimmi la verità, si sono baciati! Ma non lo so, tipo un bacetto! No Fabri, come non lo so! Comunque fracce, ci pensiamo! No Fabri, non giochiamo! Dimmi la verità, si sono baciati o no? Pensava a divertire! Ma Fabri, dimmi la verità, non giochiamo Fabri! Comunque si è fatto il numero nuovo! No, no, aspetta, aspetta, com'è il numero nuovo? Eh sì! Aspetta, prego, dimmi che gli hai chiesto! Eh certo, io l'ho chiesto mentre stava a digitare il codice delle zucchine! Grande facioletto, e qual è? 32! Ma come 32? Ma no, il zucchine è deficiente, intendo il numero suo! Si senti, comunque a parte scherzi, era un bacio o un bacetto? No, lo so, ma che cambia, Fabri? Eh, cambia tutto, Fabri, perché se era un bacetto vuol dire che sono solo amici! Se era un bacio vuol dire che mi ha piu' under culo! Senti, non mi ricordo! Che rumore ha fatto questo bacio? Non mi ricordo! Ha fatto pimma o ha fatto schiocca? Fabri, se ricordate, prego, io ci sto male per queste cose! Lo sai che gli voglio bene, giurei? Ho scritto 50 così e mi ha risposto manca una! Ho scritto due canzoni e mancano ascoltate! Quindi adesso faccio un bel respiro e butta fuori la verità! Butta fuori! Ecco, ha buttato fuori qualcos'altro! Oddio, scusa, Fabri! Eh, scusa, ma tinteggiate i pollici! Non vuoi sapere più la verità! Ti cazzi, tanto, ormai sto comunque era una merda!